Amici sportivi di Spazio 5, siamo in compagnia di Antonio Zitarosa, allenatore del Gabetto. Antonio, vi sono serviti due gol in quattro minuti per farci finalmente vedere il Gabetto a cui tutti siamo abituati? Quello che è successo l'andata, aspettavamo sempre che la squadra avversaria ci mettesse sotto per poi uscire, ma qualche volta non siamo riusciti a rimetterla a posto. Nella seconda parte del campionato, al ritorno, abbiamo giocato con un po' più di attenzione, a parte stasera che pronti e via 2-0 per loro, poi abbiamo rimesso a posto. Niente, comunque abbiamo fatto di nuovo una partita degna del ritorno del Gabetto, non dell'andata. Siete di nuovo ai play-off, ma se dovessero andare bene quest'anno siete intenzionati a salire oppure rimanere in C2? Io sono intenzionato a vincerli e poi questo vi chiedo al Presidente, non a me. Siamo in compagnia di Marco Baira, allenatore del Gembusca. Marco, questa sera avete puntato più sulle individualità che sul gioco di squadra e contro la Gabetto, che di solito gioca a memoria, non è stata forse una cosa giusta? Sì, ma questa sera penso che più che puntare sull'individualità abbiamo proprio avuto problemi a partire dalla testa, perché siamo partiti bene, però ci siamo sfilacciati durante tutta la partita. Purtroppo siamo una squadra giovane, siamo una squadra che ha alti e bassi, abbiamo fatto delle prestazioni super e poi abbiamo la nostra età media, quella di 23 anni, l'età media dell'89 e quindi ci può stare, anche se stasera sono arrabbiato, sono amareggiato per aver perso Cantarano la settimana scorsa contro gli ultimi in classifica dopo aver fatto due ottime prestazioni, due ottimini risultati contro Alessandria, prima Savigliano e poi Alessandria. Quindi spiace aver chiuso in questa maniera il campionato, anche se avevamo raggiunto i play-off anticipatamente, potevamo chiudere, adesso siamo costretti a giocare altre partite fuori casa, andremo a giocarcelo alla morte perché faremo tutto il possibile. Quindi pensi sia stato più un calo dovuto alla stanchezza, dovuto appunto al gran campionato fin qui disputato, oppure visto che comunque i play-off erano già sicuri, avete tirato un po' i remi in barca? Io direi proprio un calo mentale, noi abbiamo sofferto tutto l'anno di questi approcci sbagliati alla partita e non è successo stasera perché siamo partiti bene, oppure abbiamo veramente dei cali di tensione, dei cali di concentrazione da parte di tutti, io penso da imputare un po' all'età dei ragazzi che sono giovani, hanno tanta voglia però a volte sono giovani, sono delle spugne, assorbono tutto quello che gira intorno e se non fila tutto liscio è perfetto, sono più deboli rispetto... Sì ci mancano un paio di giocatori di esperienza che in certe situazioni durante l'anno magari avrebbero tenuto un po' in piedi certe partite, però questo è quanto insomma. Tutto sommato la stagione è andata abbastanza bene e sono contento comunque, comunque a parte stasera è la penultima partita scorsa.